Abbiamo messo la cornice di un sistema che ancora deve essere completato. Con l'accordo firmato stasera abbiamo ridato dignità e abbiamo detto grazie ai tanti insegnanti, a tutto il personale della scuola che in questi mesi, soprattutto nell'ultimo anno, si sono sacrificati sotto la pandemia. I precari restano alcuni nodi da sciogliere, quello dei precari prima di tutto. C'è una prima risposta nel decreto, bisogna lavorare per perfezionarla e per dare risposta a tutti i precari della scuola. Si ridà dignità all'insegnamento, si ridà dignità agli organi collegiali e quindi alla partecipazione democratica all'interno della scuola. Abbiamo chiesto al Ministro oggi che abbiamo fatto 400 assemblee sui posti di lavoro, sui temi della sicurezza, di inserire la sicurezza sul lavoro come materia all'interno delle scuole. C'è una partita da qui e la scuola deve essere protagonista anche di questa rinascita. Bene, grazie a voi. Grazie. Grazie.